Sono Gardo Magri, amministratore delegato di Vailant Group Italia S.P.A. Il nostro slogan in Italia è proprio abbiamo il nostro pianeta e vogliamo salvarlo perché veramente stiamo andando verso una catastrofe se non ci mettiamo noi degli correttivi e delle azioni proprio che lo salvaguardano sarà un problema per tutti. Abbiamo scelto Air Light perché intanto è un sistema talmente innovativo noi annoramiamo l'innovazione proprio di natura nostra noi cerchiamo di essere sempre avanti agli altri e Air Light è stata una perfetta occasione proprio per esprimere al massimo l'innovazione e anche la cura dell'ambiente perché essendo meno inquinante e più salubre direi meglio di quello non può essere. Abbiamo pensato di rivestire le pareti del nostro ristorante aziendale tra l'altro è un nuovo di Zecca abbiamo rinnovato tutti gli impianti, anche la cucina tutta la struttura, tutta la climatizzazione quindi è veramente un ristorante aziendale a tutti gli effetti anche bello. In questo bel luogo abbiamo rivestito le pareti di Air Light proprio perché vogliamo renderla sempre più salubre più fresca e anche meno inquinante quindi ci è sembrato proprio un connubio perfetto. È veramente nella logica nostra di salvaguardare il pianeta che quindi non è soltanto la caldaia, lo scaldabagno, il sistema solare ma anche gli ambienti in cui siamo quindi i muri, i luoghi, i colleghi sono la vita quotidiana di un'azienda di tutti i giorni. Io consiglio Air Light perché abbiamo fatto adesso non soltanto il ristorante aziendale abbiamo anche dipinto il perimetro esterno con un murale screativo veramente eccezionale credo unico a Milano. Tra l'altro stiamo completando anche la verniciatura di tutti gli uffici vorremmo arrivare quasi al 100% a Air Light sede italiana a Milano quindi sicuramente sarà un nostro partner con grande piacere sarà un nostro compagno di viaggio.